Consentire a nuovi privati di entrare a far parte della società di gestione dell'aeroporto è una delle possibilità ammesse dall'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni per il rilancio dello scalo Umbro, controllato dal pubblico e finito al centro del dibattito per via dei 10 milioni di buco accumulati dal 2006 al 2016. Sicuramente in un modello di governance che non ha prodotto grandi risultati probabilmente anche il vertice va ripensato, magari anche con un'apertura a questa persona in posizione mia personale, all'investitore privati laddove è disponibile l'entrare. Per la direzione, favorevole a un'iniezione di fondi privati, la tendenza negativa appartiene al passato. È dal 2017-2018 che l'aeroporto non ha più alcuna perdita, i bilanci non sono in perdita e anche nel 2019 dovrebbe essere confermata questa tendenza. Sul fronte passeggeri poi il calo di oltre 4.000 paganti nell'ultimo anno sarebbe già in via di recupero. Per il 2019 abbiamo avuto un leggero calo. Da novembre del 2019 c'è stata l'inversione di tendenza e i dati sono tutti positivi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.